Paura a Salerno per una rapina nei pressi del molo Masuccio. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi. Uno straniero ha minacciato con un coltello un passante e l'ha minacciato facendosi consegnare il portafoglio contenente denaro. Il malcapitato, vittima della rapina, dopo che il malvivente è fuggito, vi ha allertato le forze dell'ordine e sul posto sono giunte le volanti della questura di Salerno. I poliziotti hanno avviato subito le indagini e sono riusciti a rintracciare ed identificare il malfattore che è stato arrestato per i reati di rapina e porto di oggetti atti ad offendere. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in tutta la città per prevenire ogni tipo di reato e sventare furti e rapine. Ovviamente i cittadini chiedono che ci sia più presenza di uomini in divisa e c'è chi invoca il ritorno, almeno tra le strade del centro, come è accaduto in passato, dei militari dell'esercito italiano, che erano un deterrente per scoraggiare i malintenzionati. Grazie